Grazie a tutti. La formazione ungherese c'è un fallo di mano e il rigore fallito dagli ungheresi. Nella ripresa invece la formazione di Geur riesce ugualmente a pargiare. Guardiamo questo gol, è molto bello. Attenzione, ecco il tiro, gran sinistro splendido. Gol di Prasceller, sappiamo che in genere in quasi tutti i giornali chiedono ai giocatori nel nostro campionato di scegliere tra i gol più belli. E sicuramente questo di Prasceller è uno di quelli che merita di essere preso in considerazione. Insieme a quello di Magaliaes e quello di Cvetkov. Eccolo qui, gran sinistro proprio sotto l'incrocio dei pali. È uno a uno. La formazione di Geur riesce anche a passare in vantaggio con un altro bel gol, pure questo molto bello, gol di Hannisch. Molto bello anche questo qui. Gran tiro da fuoriare, questa volta un gran destro, l'altra volta è stato un gran sinistro. Splendidi due gol del Rabaheto, anche se insufficienti. Anche la vittoria per 2-1 non sarebbe stata sufficiente a superare il turno. Ma prima che l'incontro finisca arriva anche il pareggio del Manchester United su calcio di rigore, che viene trasformato dall'olandese Muren. Muren, vediamo l'azione che promuove il calcio di rigore. C'era stato nel primo tempo un rigore in favore degli ungheresi che l'avevano poi fallito su quella stessa porta. Invece non fallisce l'olandese Muren e fissa il punteggio sul 2-2. Ancora il replay dell'azione che ha portato poi al calcio di rigore. Anche la voce del cronista ungherese ormai è demotivata, depressa. 2-2 il gol di Muren. Beneficiali.